Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e questa è la guida a Luca Comics. Finalmente ragazzi, anche quest'anno ci sarà il Luca Comics, quindi la maggior parte dei video che usciranno questa settimana e la prossima su questo canale saranno riguardanti il Luca Comics. Io non vedo l'ora, non so voi, e per questo motivo comincio a fare video di Luca Comics cioè, parlandovi di Luca Comics di quest'anno, con una guida. Spero possa esservi utile, ricordatevi intanto come al solito di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale attivate la pannellina se vi va e passate dal profilo Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Accendiamo la luce. Perfetto. Allora, prima di tutto cominciamo per i meno informati che giorno c'è il Luca Comics. Il Luca Comics ormai da qualche anno dura 5 giorni e quest'anno sarà dal 30 ottobre, che è mercoledì, al 3 novembre, che è domenica. Quindi mercoledì e giovedì, che sono giorni lavorativi, e poi venerdì, sabato e domenica, che è festa, perché venerdì è il 1 novembre, vabbè. Comunque, dal 30 ottobre al 3 novembre. Poi, quando andare? Allora, qua ci sono diverse cose da dire. I giorni migliori sono il primo e l'ultimo. Perché? Il primo perché, ovviamente, essendo il primo giorno, c'è molta più roba, e più si va avanti ogni giorni, più la roba che c'è diminuisce, anche se rimane comunque un monte di roba. Cioè, veramente, c'è sempre un casino di roba anche l'ultimo giorno. Però, ovviamente, già il primo giorno ce n'è molta di più. Quindi, magari, trovate anche cose più rare, che magari l'ultimo giorno non trovate. E allora, perché l'ultimo giorno è uno dei giorni migliori per andarci? Perché, essendo l'ultimo giorno, se qualcuno non ha venduto delle cose, cioè, ognuno che vende lì a Luca Comics, è arrivato all'ultimo giorno ha sempre un monte di roba che non ha venduto. Quindi, per levarsela di mezzo e guadagnare un po', abbassa il prezzo. Quindi fanno anche molti sconti. E sconti anche, cioè, non sconti da nulla. Tipo, io lo dico sempre, nel 2017 ho preso un manga di Karunogo, che costerebbe 6,50€, l'ho preso a 2€. Per farvi capire. L'ultimo giorno tendono a fare più sconti. Quindi i giorni migliori sono il primo giorno e l'ultimo giorno. Ovviamente, per chi lavora mercoledì e giovedì, o vi prendete dei giorni liberi, oppure andate da venerdì a domenica. Se non potete domenica, andate uno degli altri giorni, ad esempio il primo sarebbe meglio, oppure un altro giorno a caso. Se non andate lì, cioè, se andate lì più che altro per vedere com'è Luca Comics, perché veramente vi consiglio di andare, cioè, almeno una volta nella vita bisogna andare a Luca Comics, anche se non ci sia interessati al mondo di fumetti, queste cose qua, perché non ci sono solo fumetti, ma ci sono molte altre cose. Ovviamente tutte molto interessanti, quindi almeno una volta nella vita a Luca Comics, ragazzi, ci dovete andare per forza. Quindi se andate per vedere com'è Luca Comics, per, cioè, non siete fan di quella roba lì, però comunque andate a Luca Comics e, diciamo, volete stare in tranquillità, vi consiglio di andare il giovedì. Perché? Perché non è il primo giorno e, più che altro, perché non è un festivo, quindi non, cioè, ci sarà anche meno gente, perché il giovedì la gente lavora. Il giovedì sarebbe il 31 ottobre, Halloween. Poi nel 2016 per Halloween e fecerà anche, tipo, una corsa con gli zombie, così, quindi ci saranno anche cose a tema Halloween, penso. Poco, eh? Però ci sarà. Poi a Luca Comics è veramente, ragazzi, c'è tutto ciò, veramente, c'è qualsiasi cosa. Se vi piace il mondo di fumetti, videogiochi, manga, qualsiasi cosa del genere, andateci, perché lì veramente c'è qualsiasi cosa, cosplayer, eccetera, eccetera. Se invece vi piacciono manga e anime e siete fan della serie Jojo, vi consiglio di andare il 30 e il 31 ottobre. Perché? Perché c'è l'autore di Jojo a Luca. Esatto, c'è Irohiko Araki il 30 e il 31 ottobre, quindi i primi due giorni di fiera. Quindi se seguite, cioè, se vi piace Jojo, comunque il mondo di manga e anime, sappiate che c'è l'autore di Jojo. Poi, come andare? Allora, se avete la possibilità, io consiglio sempre di andare in treno. Perché? Perché è più figo, a me personalmente mi piace di più, e perché la stazione è proprio lì davanti alle mura di Lucca dove si entra, dove si entra a Luca Comics. Quindi io consiglio sempre di andare in treno. Anche perché in treno magari è quasi scontato, o meglio, praticamente sempre, potete trovare qualche cosplayer, ovvero persone che si travestono da personaggi di qualsiasi cosa, serie tv, film, cartoni di boh, anche anime. In treno ne vedete diversi. Poi perché non consiglio di andare in macchina, a meno che non veniate da lontanissimo e il treno è sconveniente o non vi conviene. Non andate in macchina perché i parcheggi sono lontanissimi. Infatti c'è una specie di autobus che vi deve portare dal parcheggio fino a Lucca, cioè fino a Lucca Comics, perché è veramente lontano. Cioè i parcheggi sono veramente lontani. Poi considerate la gente che c'è, magari il parcheggio sarà anche pieno, cioè i parcheggi saranno anche pieni, perché c'è più di un parcheggio. Quindi io consiglio sempre di andare in treno. A proposito di cosplayer, visto che ne stavo parlando prima, se vi volete travestire, ragazzi, tranquilli, nessuno vi prenderà in giro, anche perché, anzi, è bello vedere qualcuno travestito, vi chiederanno foto, così, perché, se sarà ovviamente un bel cosplay, perché sono veramente belle, a me piacciono davvero un sacco, quindi se vi volete travestire non vi preoccupate perché nessuno vi giudicherà, visto che è una fiera fatta apposta anche per travestirsi. Da quello che vi pare, anche dalle cose più pazzi, più divertenti, da quello che vi pare. Poi, cosa portare e quanti soldi portare? E questo è un punto su cui soffermarsi. Partiamo da cosa portare. Io vi consiglio uno zaino, uno zainetto con dentro il pranzo, perché mangiare lì è veramente dura, o meglio, ce la fate, però... Vi consiglio comunque di portarvi il pranzo da casa. E fermarvi a mangiare, mentre guardate i cosplay che passano, come ho fatto io l'anno scorso. Mi sono fermato al padiglione Napoleone e mangiavo mentre vedevi i cosplayer che passavano ed era bellissimo. Ma non c'entra nulla, torniamo a noi. Quindi, zainetto, pranzo, ovviamente, acqua. Prendete la mappa all'entrata, perché fidatevi che la mappa è utile. Portatevi un ombrello, non si sa mai, perché spesso piove. Cioè, spesso. Ci sta che piova, diciamo, non è... Le possibilità sono remote, ma ci sono. Anche perché io sono stato tre volte a Luca Comics e una volta è più avuto tutto il giorno un'altra, tipo, mezza giornata. Quindi voi per sicurezza, se vedete un po' di nuvole, portatevelo. Se sapete di spendere parecchio e di comprare diverse cose, portatevi magari anche un carrellino, oltre a tutte le buste che vi daranno, anche un carrellino per mettere vari manga, action figure, così. Poi... Quanti soldi portare? Ma quanti soldi mi devo portare? Ma mi bastano questi soldi qua? Allora, vi spiego. Ora, non vi dico quanto mi porto io, perché sennò venite a rubarmi, tipo. Non scherzo, veramente. Allora, io consiglio di portare minimo, 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 100 euro. Quelli minimo. Minimo, proprio minimo, 100 euro. O meglio, proprio minimo, 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 minimo. Stiamo altri, riesce, sono da dire minimo. 50. Sotto i 50, proprio ragazzi, assolutamente no, scordatevi. Sarebbe meglio fissarsi 100 euro come cifra minima. E come cifra massima? Allora, in realtà, potete portarvi quanto vi pare. Però io consiglio intorno ai 500 euro in una giornata. Ovviamente, se andate un giorno solo, se volete, portatevi anche di più. Però più di 500 euro... Non lo so. Perché comunque, essendo 5 giornate, voi potete andare anche tutti e 5 giorni e portarvi meno di 500 euro ogni giorno. E dividervi i soldi, appunto, per giorni. Vedete voi, io vi consiglio per una giornata, minimo, 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 50, ma sarebbe meglio minimo 100. Massimo 500. Sono tanti, lo so, ma se non siete mai stati a Lucca non potete capire. Poi, che giro fare? Allora, io vi consiglio, appena entrate, di andare subito a Japantown. Poi, andare a stenderla Panini, Star Comics, Padiglione Napoleone, dopo. E poi, andare, ovviamente, a Padiglione Napoleone, anche Shockdom, eccetera. Poi, se vi va, se dovete portare dei bambini, ok, andate nella parte per i bambini, che è un po' più lontana rispetto al resto. E poi, alla fine, fate gli stand dei fumetti e dopo gli stand sulle mura. E, alla fine, fuori, il Padiglione Games. Comunque, vi dirò meglio che cosa c'è a Lucca quest'anno in un prossimo video. Quindi, non ne parlerò ora. Voi attivate la campanellina per ricevere la notifica quando caricherò il prossimo video. Dove vi dirò che cosa ci sarà quest'anno a Lucca. Quindi, anche meglio, che giro fare. Cioè, cosa guardare, dove andare, dove andare prima, dove andare dopo e cosa vedere. Ovviamente, farò anche un video dove vi spiegherò quando sarò a Lucca Comics e come sarò, tra virgolette, travestito. E nulla, raga. La guida finisce qua. Spero che vi sia stata utile. Mi raccomando, ragazzi, ovviamente, dovete stare attenti a figure false. Veramente, state attenti, appunto, a figure false, a truffe, a gente che vuole rubare. Perché, fidatevi, ce n'è. Tenetevi veramente stretto il portafoglio. E niente, raga. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Se aspettate altri video per il Lucca Comics. Lasciate like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, passatela al profilo Instagram che vi lascio sempre in descrizione. Scrivetemi se ci sarete a Lucca Comics. E niente, raga. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.